Andiamo, leggere Andrea, sei finanziata? E non è finanziata, guardi! A tua madre che vorrebbe poi uno benestante Non sarà contenta che tu esci con un cantante Dimmi, dimmi cosa importa che diventiamo Godiamoci il momento, anche se è un po' strano Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo E poi finirà così Sei così bella, anzi bellissimissima Lascio un punto e una virgola Quando scrivo di te Ed è così bello Tra noi c'è questa chimica Una reazione insolita